Non solo sostegno concreto alle giovani, alle donne, come anche alle famiglie che si ritrovano a dover affrontare con difficoltà una gravidanza, ma un impegno concreto in favore di una cultura del rispetto dell'esistenza del creato, sempre più minacciata da forme dominanti di relativismo etico svuotato di ogni valore. Il CAV si prepara, come sempre, ogni prima domenica di febbraio a celebrare la giornata della vita, organizzata dall'ufficio diocesano di Passorale per la famiglia, la 42esima edizione vede il centro di aiuto alla vita di potenza al lavoro per la realizzazione di un fitto programma di eventi nel segno della condivisione e della sensibilizzazione. Non mancheranno le piantine di primula che i volontari del centro offriranno alla città per la consueta raccolta fondi da destinare alla promozione delle attività del CAV. Per quest'anno abbiamo pensato di celebrare la giornata della vita in diverse parrocchie della città, come ogni anno, sensibilizzando per quanto possibile i fedeli e la città a sostenere la nostra associazione, perché con i fondi che riusciamo a raccogliere noi poi assistiamo e accompagniamo tante mamme in difficoltà, tanti bimbi che hanno bisogno evidentemente anche di un supporto concreto per proseguire il loro cammino. Oltre all'animazione prevista nelle parrocchie, il centro di aiuto alla vita ha promosso una serata di intrattenimento aperta alla città di potenza con la partecipazione di ospiti d'eccezione. Sabato 8 saremo al Teatro Stabile, ci saranno due ospiti che verranno da fuori e che offriranno la loro testimonianza proprio a favore della vita, ma preferirei in questo momento non anticipare altro, ma ne vale veramente la pena. Vi aspettiamo numerosi sabato 8 alle 20 e 30 al Teatro Stabile. Ma cerchiamo di capire come nasce il Cava Potenza e in che modo opera sul territorio. Il nostro è un centro che accoglie, ascolta, sostiene le donne che si trovano a vivere una gravidanza indesiderata, difficile, che nel momento della loro vita sconvolge e coinvolge. Noi apriamo le nostre porte, le ascoltiamo e diamo loro quello che innanzitutto è il nostro cuore, perché è un colloquio, l'empatia che creiamo con la donna. E poi ci attiviamo anche con dei supporti economici e in questo c'è anche l'attivazione di un progetto, che si chiama Progetto Gemma, per quelle donne che si trovano proprio a vivere una condizione dove le sono costrette, tra virgolette, a non poter portare avanti la loro gravidanza per gravi difficoltà economiche. Quindi si avvia un progetto che sono 160 euro al mese per 18 mesi. Quello offerto dal Centro di Aiuto alla Vita di Potenza è un supporto qualificato, oltre al lavoro dei volontari sono numerosi i professionisti che collaborano con il CAV. Il nostro centro, a parte noi come volontari, ci sono dei medici, degli specialisti che ci aiutano, che ci aiutano in questo percorso. Volevo anche dire che noi abbiamo anche una formazione. Prima di diventare volontario c'è un percorso di formazione attraverso corsi che sono tenuti da specialisti. Un'attività costante che a distanza di anni ha assicurato sostegno e speranza a numerosissime donne. Ricordo con molto affetto una donna alla terza gravidanza, venne accompagnata da un'amica in associazione, aveva già quindi due bambini piccoli, lei non voleva abortire, però cercava davvero un supporto e quando riuscimmo in qualche modo a presentarle tutto il nostro aiuto concreto, lei contenta mi abbracciò e disse grazie, grazie per tutto quello che stamattina ci avete offerto, ma grazie soprattutto perché ci avete ridato la speranza. E una donna che riconosce la speranza, probabilmente a tratti avrà anche riconosciuto la disperazione. Quindi noi abbiamo davvero a che fare con queste realtà e abbiamo dati alla mano 180 bambini nati, il primo adesso sarà piuttosto grande. La sede del CAV è in via Vescovado a Potenza, mentre è possibile mettersi in contatto con il centro chiamando il numero verde 800 81 3000 oppure il 388 47 89 293. Grazie. 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 Grazie.